Sette segnali che lui si sta innamorando di te. Allora, quali sono questi sette segnali che lui si sta innamorando di te? Beh, il primo segnale è sicuramente a livello non verbale il, come dire, il bacio analogico. Sembra una cosa strana, ma è proprio questo bacio che la persona tende a fare questo leggero movimento. Cioè tu parli con lui e lui che non è che lo fa apposta, è proprio accentuato, sarebbe una cosa fantoziana. Però ha fatto, osserva quindi la sua bocca, perché se noti questo segnale significa che c'è un forte coinvolgimento nei tuoi confronti. È molto interessante questo segnale perché ti fa veramente capire molte cose. Un altro segnale interessante che capita sempre a livello non verbale è praticamente il mordicamento del labbro inferiore. Da non confondere con il mordicamento del labbro superiore, perché il mordicamento del labbro superiore significa fondamentalmente che ti vorrebbe trombare. Invece il mordicamento del labbro inferiore significa che sta provando affetto per te. Certo è che anche il sesso è importante, però l'innamoramento è più un fatto affettivo, perché dobbiamo distinguere tra l'istinto del, diciamo, del sesso e invece l'innamoramento. L'innamoramento è un qualcosa di affettivo, è un qualcosa che si manifesta fondamentalmente proprio, diciamo, attraverso, veicola l'affettività. E questo è il secondo segnale. Quindi primo segnale è il bacio analogico, secondo segnale è il mordicamento del labbro inferiore. Terzo segnale, l'uomo, in questo caso la persona, ha dei piccoli movimenti verso di te e ovviamente se riesci a gestire la prossemica e se tu provi ad allontanarti, vedrai che come un pendolo lui continuerà a seguirti. Ovviamente poi l'altra volta farà anche un passettino in avanti. Questo è un altro segnale molto importante che fa capire che c'è un forte coinvolgimento da parte sua nei tuoi confronti. E poi veniamo al quarto segnale che è un segnale molto molto importante e che è praticamente che questa persona, diciamo, cerca di mettersi complementare le tue esigenze. Cioè noti che per te fa delle cose che per gli altri non ha mai fatto, ad esempio. Perché noi quando siamo innamorati dobbiamo renderci conto che si invertono i codici di piacere e sofferenza. Cioè ciò che troviamo interessante, diciamo, ciò che troviamo interessante fare quando siamo innamorati in altri momenti non troviamo interessante fare. Quindi per te inizia a fare delle cose che normalmente non ha mai fatto. E quindi abbiamo visto primo segnale il bacio analogico, secondo segnale il mordichiamento, terzo segnale viene avanti, quarto segnale inverti i codici di piacere e sofferenza, quinto segnale, diciamo, fa degli investimenti senza pretendere nulla in cambio. Cioè inizia a offrirti delle cose ma non pretendendo qualcosa in cambio. Non è che tu, cioè, ti offre la cena se gliela dai, perché ti offre la cena anche se non gliela dai, per il piacere di stare in tua compagnia. Sesto segnale, anche questo è un segnale molto importante perché fa capire che è veramente innamorato, cerca in tutti i modi di introdurti nella sua cerchia familiare. Cerca di farti conoscere i suoi amici, ancora meglio i genitori, i parenti, insomma, tutte le persone che sono veramente importanti per lui. E questa è un'altra cosa che devi tenere presente, è veramente molto molto utile. E ultimo segnale da tenere in considerazione, che è fondamentale, si ricorda anche le cose banali che tu gli hai detto, cioè vuol dire che ti prestava attenzione. Perché un uomo quando è disinteressato gli entrano da un'orecchio e gli escono dall'alto, tu puoi raccontargli quello che vuoi, ma l'unica cosa che gli interessa è poi se apri le gambe o meno, fondamentalmente. E quindi non presta tanta attenzione. Invece quando presta attenzione a cose che apparentemente sembrano banali, apparentemente sembrano inutili, è perché c'è dietro un forte coinvolgimento. Ecco, se osservi questi sette segnali, significa che questa persona è veramente coinvolta con te, significa che questa persona, quest'uomo è veramente innamorato di te. Se questo video ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai le notifiche di nuovi video e seguimi su Instagram e su TikTok.